una campaglia iniziale ma fa più ore da voi non mi apre quello che mi piace che ne va a... a Belva i cietro io sono per la valione di cittadino che stai cittadino che stai cittadino a planta che va a ritarla ho provato io il cietro sei buco ma quanto quanto mi fai io sono per il cietro mi sto parlando di Cietro 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 a Ponnipola cietro cietro si si cietro del macchina il cietro del macchina ha un cietro del macchina ah è lì stai a vivere un po' di spazio un po' di spazio un po' di spazio una gialla è molto guarda perché sono comparibili bellissimo quelle piccoline ma io devi fare la scheda ora prima che non è naturale ma non c'era un'altra cosa per me l'unico albero che preferisce per me è la scheda ora non c'era un'altra cosa vorrei dire che mi pianta voi peschi peschi del pollo le peschi del pollo queste grosse la sakeї piace c'è un certo nei bisi daqui c'è un certo quindi schze minds la terza ogni tanto Noi sono un peccato, ma quello darei... Questo e questo è un peccato. Dove era? Noi sono in una minuncia a la gara che sta in questa pagine. E vieni a lasciare a finire a cagliare. Pregunti che vienerà la strada di prima. E hanno proprio tempo delle scolole. E quindi... hanno un arvaro a finire. No, non si andate a cercare. Vieni. Sì, è un po' spettacolare con i fiori, il contagio della vista, mi diceva l'oltre, hanno un po' sul porto, ma non è un po' sul porto ma non è un po' sul porto, ma non è un po' suriale, ma non si potreste tutti il posto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.